Non bastasse la parentopoli per la quale vanno verso il processo otto manager accusati di abuso d'ufficio per 49 assunzioni di familiari e amici, non bastasse lo scandaloso dato emerso dal bilancio 2012 con un miliardo di passeggeri e ricavi da biglietti per soli 249 milioni, ecco Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma, la più grande d'Italia, tra le più grandi in Europa, di nuovo sulle cronache per un'altra storia quantomeno imbarazzante. Un'inchiesta su cui Procura di Roma e Guardia di Finanza indagano dalla primavera scorsa, quando tre alti dirigenti furono raggiunti da avvisi di garanzia per la cosiddetta truffa dei biglietti clonati. Una frode segnalata dagli stessi vertici dell'azienda che un anno fa consegnarono alla Procura una relazione. Titoli di viaggio per autobus e metropolitana paralleli, non fatturati, identici a quelli veri, stampati dalla stessa Atac per i rivenditori ufficiali. Un meccanismo che avrebbe permesso di accantonare fuori bilancio circa 70 milioni l'anno. Una truffa che andrebbe avanti dal 2000. I circa 20 uomini che gestiscono il servizio biglietti di Atac sono gli stessi da 13 anni, lavorano in uffici blindati, riservati ad un gruppo ristretto. E oggi Repubblica tira fuori risvolti inediti di un sistema oleatissimo, come lo definisce la finanza, capace di creare una contabilità parallela della quale avrebbero beneficiato manager e politici, istituzioni locali e anche parlamentari. Un patto che sarebbe stato rinsaldato nel 2008 a casa di Riccardo Mancini, il fedelissimo dell'allora sindaco Alemanno, l'uomo che gestiva i trasporti a Roma, arrestato a marzo di quest'anno per 500 mila euro di tangente sui filobus destinati alla capitale. A quella cena, pochi mesi dopo l'ascesa di Alemanno in Campidoglio, parteciparono diversi top manager. Si parlò di un accordo politico bipartisan, siglato ad alti livelli, che mirava a garantire continuità sulle aziende del trasporto pubblico nel passaggio dal centro-sinistra dell'ex sindaco Veltroni al centro-destra del successore Alemanno. Il sistema andava preservato, racconta un ex manager dei trasporti, e anche la fabbrica dei biglietti falsi doveva continuare a stampare e a produrre milioni e milioni in nero.